Bella raga qua Fabio e sono in compagnia di Sava997 e Beck0099, mio cugino Beck E siamo qua su Bo2, Black Ops 2 e volevamo fare una partita in domino veterano E non devo trovare Lost che fa schifo, uuuuh standoff che turbine fa schifo come mappa E' bruttissima Guardate che bello il mio Thompson E' davvero una cosa eccezionale Devo dire Aspetta cavolo devo cambiare Magari provo a fare una partita in quick Le ricompense che avevamo fatto una cosa temo l'Elson Tacco Fulmini a posto del Ehm... Ehm... Ok, puntiamo tutti Si parte, vai Magari faccio una partita quick io, provo a quickare Forse è meglio togliere il silenziatore al DSR Cioè praticamente prima c'era un napo che non m'ha visto, mi è passato pure davanti, era, stava camperando Dominio veterano Catturate l'obiettivo La mimetica zombie Prendiamo G Il nemico al peso alfa Prendiamo B Non è nessuno di qua ragazzi Non so se non mi ero in razione Non siamo più in vantaggio Era un cugino Eh, con lo squasse, grazie Io ho un colpo in cano Prendiamo B Stiamo vincendo lo scontro Approvvigionamento in arrivo La testo stronzo col vantaggio Drone d'attacco in azione Approvvigionamento alleato in azione Attenzione Drone d'attacco in azione Iniziamo già bene C'è là che campera una Drone d'attacco in azione No, vada dietro Stronzo Ragazzi, io mi sto impegnando Per diventare un youtuber Come Gabbo di Squared Johnny Rick Just Ron God's Red Che sono i migliori italiani Sì, sono davvero Davvero molto bravi Vinci Dove cazzo è? RCXD alleato in arrivo Ragazzi, un bel 4-5 ci sta da Un amico 4-1 Sava Mettete like alla pagina Facebook Del bro Che si chiama I bro Sava e camper Approvvigionamento in arrivo No Ne ho colpiti 2-2 Ne ho colpiti Vai E come ne ho facciato punti? Prendiamo B Sua B in arrivo Guarda uno che camper Eccolo là Ho fatto fuori Prendiamo G No Guarda che mi stronzo Ora l'ho fatto Ora l'ho fatto Ora l'ho fatto Tuo avvi nemico Sopra di 2 Prendiamo G Prendiamo B Prendiamo C Allora Ascolto a me Sì e no Ma vaffanculo È dietro il muro Prendiamo Ma dai Ma mi fottone Ua B in arrivo Ua B di disturbo Alleato in arrivo Ostia Per cosa scusa? RG di alleato in arrivo Andrea per cosa scusa? Ua B in arrivo Sopra di arrivo Ma mi ha ucciso lui Mannaggia Parte Basta Giamo un po' con West Prendiamo A Prendiamo Bravo Allora Qua dovrebbero essere Il pro dovrebbe essere qua come Che è morto Ah sì Che è morto Attenzione Drone d'attacco nemico In arrivo Prendiamo B Guarda il pro Guarda il pro Mi ha chillato Prendiamo B Ma che cavolo 9-11 Che schifo Ok ok Abbiamo perso il round Ma non è finita Ragazzi è finito il primo round Il primo round è finito Con l'ultima kill Fatta a me Come sempre Guarda lì Ma che culo Mi ha ammazzato Perché non stava manco mirando a me Intervallo Madonna Stava mirando a un altro E ha ammazzato a me Per colpa di uno Per colpa di uno Che l'ha Io sparava Guardate Deo Conquistate l'obiettivo Prendiamo A Bisattorbitale Bisattorbitale Alleato online Prendiamo bravo Che cazzo Guarda il bro Guarda il bro Tuo avvia Alleato in arrivo Bravo è il nostro Ma guarda che c'è Prendiamo Charlie Sì Forse passasse qualcuno Prendiamo Charlie Tutte le bandiere conquistate Restare in posizione Come c'è il capo Di square Di storm Di amico RCXD in arrivo Ragazzi scusate per Approvvigionamento Alleato in arrivo Di merda 913 Speravano di andare In positivo Per se ultimi Perdiamo Alpha Approvvigionamento In arrivo Il drone D'attacco alleato In azione Il drone D'attacco alleato In azione Il drone Perdiamo Attenzione L'uomo Di un uomo Di un uomo Che cosa faccio adesso? Questo sì Colpo fulminante Giuro che se becca non è Perdiamoci anni Perdiamo bravo Perdiamoci Ok adesso vi faccio il culo ragazzi Meglio che vengano a casa Faffanculo mi fottone Faffanculo ogni volta che ricarico Prendiamo B Prendiamo B Perdiamo Charlie Ci stanno dominando Dovete reagire Alfa è nostro Guarda che camper di merda Sto Dieghino Ma Dieghino l'ho già incontrato Qua via alleato in arrivo Ragazzi non riesco a giocare adesso Non so cosa mi succede Prima ho fatto un 40-18 Prendiamo bravo Qua non riesco a giocare Che cazzo è successo? Sì e no Ma hanno rotto le palle Sti cecchini Merda Oh ha rotto il cazzo Questo colo su as Sta scassando davvero il cazzo Qua via alleato in arrivo Prendiamo Charlie Qua via di disturbo in arrivo Coraggio Possiamo farcela Ma è deficiente allora Quello Mi ammazza da solo Cioè ammazza me Che sono un compagno di squadra Ma allora sono proprio mongoli Ma se non sapete giocare Andatemene a giocare in nucleo Eh ma ammazzo pure il mio compagno Adesso se lo trovo Mamma mia Chi è Sain? Sain No se lo trovo Mamma mia L'ammazzo La killcam deve essere mia Non è mia Levatemi quello La killcam è di E boh L'abbiamo perso a parte C'è Andrea che scrive bella Sopra Ovvero Sava Raga adesso comprerò il gatto Quindi non dovremmo vedere più i video fatti così Per oggi è tutto Se vi è piaciuto il video Ricordate di lasciare un bel mi piace Ci vediamo alla prossima Bella raga Grazie a tutti Grazie a tutti